ragazzi dovrei darmi un bacio a testa ma faccio fatica a darlo a tutti quanti allora ve lo mando, ve lo mando, mi è appena arrivato un messaggio da Andrea Sonvico che è il collaudatore delle Ferrari, mi ha detto dai un bacio a tutte le girls io ci provo a vado tutto qui grazie